Il silenzio, una voce, il viaggio, la vita. Dopo due anni torna il presepe più bello d'Italia. Presepe vivente di Gangi, borgo più bello d'Italia 2014. Dal 26 al 29 dicembre nel centro storico di Gangi, la più bella rappresentazione della natività. Un viaggio nel tempo, nella bellezza e nella cultura. Per tutte le info e per l'acquisto ticket, Grazie a tutti.